Il tema dei vaccini obbligatori sta scatenando diverse polemiche ma anche proteste da parte di alcuni genitori perché purtroppo è accaduto che dei vaccini hanno causato seri danni a dei ragazzi che si sono sottoposti in tenera età appunto al vaccino. Lei è la mamma di un bambino che ha subito in tal senso gravi problemi? Sì, mio figlio è appunto un bambino che ha avuto una reazione avversa, da premettere che io ho un altro figlio più grande, l'ho vaccinato senza nessun problema, ha fatto tutto il ciclo di vaccini, Nicolò aveva cominciato con la stessa cosa dopodiché al secondo richiamo dell'esavalente ha avuto una reazione avversa. Abbiamo avuto un bambino in fin di vita quindi eravamo preparati al peggio, un bambino nato con dieci decimi di Apgar, un bambino che presentava uno sviluppo psicomotorio come certificato dalla pediatra oltre la norma, in un attimo ce lo siamo visti sfuggire dopo pochi giorni dal vaccino. Il vaccino è la goccia che fa traboccare il vaso su un sistema immunitario che comunque presenta deficit a quell'età, non potrebbe essere altrimenti a sei mesi nessun bambino ha un sistema immunitario formato. Pertanto insomma la mia battaglia non è vaccino sì, vaccino no, come oggi si vuole far passare per semplificare la situazione. La mia è una battaglia di conoscenza, di consapevolezza. Io fondamentalmente non mi riguarda questo decreto perché il mio primo figlio ha 19 anni, Nicolò è un danneggiato, pertanto esonerato dal fare vaccini. Perché questo mio impegno? Questo mio impegno affinché non ci siano più bambini danneggiati, affinché non ci siano più genitori che si devono disperare per cercare comunque cure, per cercare di rendere la vita dei loro figli quando più indipendenti possibili. Che cosa serve per fare questo? La consapevolezza, l'informazione, quello che manca totalmente perché oggi si fa un decreto, 12 vaccini obbligatori, nessuno informa, nessuno dice che anche un semplice prelievo di sangue comunque può fare la differenza. Nessuno che dice di fare determinate cose prima della somministrazione vaccinale. Ci sono comunque una prassi da adottare per far sì che la reazione avversa avvenga in percentuale minore. Quindi prima informiamo e poi non c'è bisogno di obbligare a vaccinare perché viene da sé che un genitore informato vaccina e nessuno può negare quanto i vaccini di buono abbiano fatto. Però nemmeno nessuno deve negare che i danneggiati sono un esercito. Il suo bambino Nicolò adesso come sta? Allora Nicolò ha avuto un buon recupero, un ottimo recupero, ci siamo girati il mondo, non ci siamo fermati un attimo, abbiamo fatto diverse disintossicazioni ma non è un bambino completamente recuperato e quindi insomma l'amaro rimane sempre perché io avevo un figlio sano, avevo un figlio che cresceva benissimo, anzi presentava le tappe dello sviluppo anche in maniera anticipata rispetto agli altri bambini e oggi mi ritrovo con un bambino che fa ancora l'ocopedia e psicomotricità a 12 anni. Insomma questo per un genitore è difficile da accettare.